Sul palco il professor Salino Rizzuta, che è il nostro magnifico rettore, chiede ai tecnici di allungarci un microfono. Professore, lei è casa sua questa anche un pochino, però è una serata particolare. Per l'altro anniversario che stiamo aspettando, ci sono detto 100 anni di tutta l'università, è una grande data. Però lasciatemi dire che oggi è una giornata, quindi questo anniversario cade in un momento. Grazie. Grazie.